Noi siamo Industra Scenica. Industra Scenica è un'impresa creativa e lavoriamo a Vimodrone, Milano. Ci occupiamo di welfare culturale e drammaturgia di comunità. Cosa significa? Significa che progettiamo esperienze artistiche e ricreative che promuovono il benessere e la socialità. La nostra sede è una storica balera. Sì, una balera, avete capito bene. L'Evres spazia la cultura di Vimodrone. Dal 2014 lavoriamo in questo spazio per renderlo sempre di più un luogo della partecipazione culturale, una piazza al coperto. Insieme all'Associazione del Territorio organizziamo una stagione teatrale, una rassegna di teatro scuola, delle residenze artistiche, offriamo corsi di teatri circo, serate danzanti e eventi comunitari. Qui proviamo anche gli spettacoli della nostra compagnia teatrale. Ogni giorno lavoriamo per promuovere le risorse creative di un comune, di un condominio, di un quartiere, di una scuola. Insomma, ci interessa rendere i cittadini responsabili della produzione culturale del proprio territorio. Sì, perché la cultura crea comunità. E la comunità crea cultura. Oggi vogliamo condividere con voi una nuova sfida che ci vedrà impegnati per i prossimi tre anni in una partnership virtuosa con il Teatro Ciprian di Busau, Romania e l'Università Cattolica di Mursia, Spagna. Il progetto Tele Encounters Behind the Human. Tele Encounters è un progetto di cooperazione promosso e cofinanziato dalla comunità europea attraverso il programma Creative Europe. Con Tele Encounters andremo a esplorare l'integrazione tra tecnologia, robotica, telematica, intelligenza artificiale e l'arte. Il progetto coinvolge artisti, scienziati, esperti di tecnologia e sociologi. Inoltre affronta l'importante tema dell'immigrazione e cercherà di dare risposta alle domande che abbiamo in testa e che frullano in testa ai nostri pubblici. Possono la rete e i device sostituire le relazioni familiari o sono dei mediatori? Un robot può diventare un caregiver? È possibile fruire di uno spettacolo teatrale in via telematica? Il ruolo di industria scenica si sviluppa su più piani. Riflettendo sui temi del progetto, realizzeremo degli workshop sulla robotica, creeremo uno spettacolo di teatro telematico e diffonderemo i risultati attraverso video, conferenze e seminari. In questo momento è aperta una call per artisti 3D che insieme a noi e ai nostri pubblici andranno a disegnare e a riflettere sui robot caregiver. È una nuova e importante sfida per l'industria scenica. Siamo felici di partecipare a questa grande avventura e di poter dare il nostro contributo a questo progetto di promuovere lo sviluppo dell'Europa e costruzione delle partnership virtuose. E siamo felici di poter coinvolgere i cittadini di Vimodrone in questa esperienza di respiro europeo. Se volete saperne di più visitate il nostro sito www.industriascenica.com o il sito del progetto www.teleincanters.com www.teleincanters.com Grazie a tutti.